Carissimi fratelli e sorelle, il volto del Signore fa risplendere su di voi la sua luce, la sua grazia, la sua misericordia, la sua bontà. E questa luce vuole portare la vita di Gesù nel cuore di ognuno, farlo permeare nel tessuto costitutivo del nostro essere, cioè della nostra anima. E la grazia del Signore non ci abbandona mai e questa grazia ci rende vittoriosi fino a condurci alla gloria eterna. E questa è una visione che noi dobbiamo avere dentro il cuore. Perché? Perché la conclusione della vita non è il morire, il finire, ma entrare nella pienezza della gloria. Gesù questo ci ha insegnato, dice la lettera di ebrei, di lui, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, fu sottoposto alla croce. Gesù aveva davanti a sé non il fallimento, ma la piena realizzazione della sua vita. Così una pianta che produce frutti deve portare frutto in abbondanza, il frutto deve maturare, ma se cada appena ha cominciato a germogliare, voi capite che quel frutto non ha avuto la pienezza della sua vita. Così Dio ci ha destinati a questo e Gesù ha voluto portarci la pienezza della vita. Ecco allora che il Signore chiede a tutti noi, fratelli, di lasciarci permeare dalla sua grazia, di lasciarci avvolgere dalla sua benevolenza. Oggi quindi Dio deve entrare nella mia mente, nei miei pensieri, nei miei progetti, deve entrare nei miei affetti, nei miei sentimenti, deve Lui illuminare la mia esistenza. E quando ci dice Gesù nel Vangelo che ascoltiamo oggi, nella Messa, quando Gesù dice che non chiunque mi dice Signore, Signore, cioè pronuncia il mio nome perché ha paura e entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, cioè che si lascia avvolgere dalla grazia di Dio e ne segue gli insegnamenti, ancora dice Signore, mi diranno in quel giorno, non abbiamo forse profetato nel tuo nome e nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni e nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi, ma non sono queste cose che ci salvano, ma l'essere nella grazia di Dio. Perciò Gesù risponde Ma allora io dichiarerò, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Perché? Vedete, qui fratelli, noi dobbiamo chiarire un concetto evangelico molto molto chiaro. A volte diciamo basta fare il bene. Sì, il bene va fatto, ma non è sufficiente. Dio ci chiede di vivere in comunione con Lui, di renderlo partecipe del nostro essere. Alla serie mi chiedo, ma oggi ho fatto io o ho fatto fare il Signorò che abbiamo fatto insieme? Che Dio vive insieme a me. Infatti San Paolo, al termine del quattordicesimo capitolo della Lettera Romana, dice questa frase Tutto ciò che non viene dalla fede, cioè dalla coscienza, che ci dice quella è volontà di Dio, è peccato. Perché il peccato non è fare il male, togliamoci questa idea dalla mente. Il peccato non è fare il male, è fare senza Dio. Io faccio il bene, ma senza Dio. Faccio opera di carità, ma senza Dio. Lo faccio per me, lo faccio perché voglio essere bravo. No, io devo fare ciò che Dio mi chiede. Una volta una ragazza venne a Lourdes con noi e accompagnava un ragazzo che si ubriacava sempre. Arrivati a Lourdes, lei voleva prendere la stanza insieme a questo giovane. La responsabile del pellegrinaggio di quell'albergo mi chiamò e mi disse che devo fare. Dice no, siamo in pellegrinaggio, ognuno rispetti la dignità del pellegrinaggio. Sulla via di ritorno questa ragazza venne nel mio scompartimento a parlarmi e mi disse che noi avevamo capito molto male. Tra lei quel ragazzo non c'era nulla. Dal momento però che lui si ubriacava sempre, lei lo doveva vigilare, sorvegliare, per impedirgli di ubriacarsi, altrimenti l'avrebbe fatto. Allora mi permisi di chiederle, ma perché lo segui? Perché io ho deciso, mi fece, di fare una buona azione e ho deciso di salvare lui. Ma lo stai facendo perché senti che il Signore lo vuole da te e lo fa nel suo nome? No, 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 lo voglio fare io. Quella ragazza non voleva fare del male, ma voleva lei dirigere la vita di quel giovane. Lei lo voleva redimere e Dio dov'era? Non c'era. Ecco il peccato. Il peccato non è fare il male. Con questo non diciamo non fare il male, no. Ma il male di per sé è quello di Adam e Eva che escludono Dio della propria vita. Per cui in bene e in male Dio non c'è. Questo il Signore ci chiede allora nel Vangelo di costruire la nostra casa su di Lui Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Gesù non ti sta dicendo fai il bene. Camminiamo insieme, viviamo insieme, viviamo in comunione. Lo Spirito di Dio ci deve animare. La tua vita non ti appartiene Sua e Lui appartiene a te. C'è comunione. Lo Spirito dell'uomo agisce nella comunione. Quindi prosegue Gesù. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cande la pioggia, stratipare nei fiumi, soffiare nei venti, si abbatterono su quella casa ma essa non cade perché era fondata sulla roccia. Camminava con Dio. Noi dobbiamo arrenderci a Dio continuamente. Però quando usiamo questa espressione arrendersi, che è un'espressione biblica, lo usa San Pietro negli Atti degli Apostoli quando dice di queste cose siamo testimoni noi, lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui, che si arrendano a Lui. Cioè come dire, io mi cedo all'amore. Non cedo a un potente che mi ordina le cose ma a un innamorato che si è invaghito della mia vita e fa comunione ed amore. Non per nulla allora il Signore rappresenta se stesso, raffigura se stesso spesso e volentieri nella scrittura a uno sposo innamorato. Guardate per esempio il profeta Osea. Il Signore dice che la condurrò nel deserto parlerò al suo cuore. Parlerò al suo cuore. La faccio innamorare di nuovo la mia sposa cioè il mio popolo. Quindi quando si parla di arrendersi ma arrendersi all'amore non ha una prepotenza. Dio non usa prepotenza. Dio ci lascia liberi. Satana è il prepotente che ci rende schiavi di quello che Lui vuole. Dio no. Ci seduce con l'amore. Come dice il profeta Geremia Tu mi hai seduto Signore e io mi sono lasciato sedurre. Tu hai fatto violenza e hai prevalso su di me. Ma quale prevalenza? Prevalenza d'amore. Come quando un giorno è innamorato una ragazza fa di tutto per entrare nel suo cuore. Quello non è violenza. Quando si è singile quando si cerca invece un ben altro noi parliamo di violenza morale psicologica o altro. Quindi dice Gesù cadra la pioggia straribarono i fiumi soffiarono i venti si abbatterono su quella casa ed essa non canta e la sua rovina fu grande. che quando non c'è il fondamento solito di Gesù Cristo nella nostra vita si tende appunto a cadere. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi le folle erano stupite del suo insegnamento attenzione egli infatti insegnava loro non come uno che insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi. Una volta il famoso psicologo mi disse tu sbagli quando predichi perché dici fai le affermazioni dovresti dire secondo me io penso no no le rispose io non penso io dico quello che dice la parola di Dio perché non posso rischiare che la gente edifichi la propria vita sui miei pensieri sulle mie opinioni il Vangelo è vita o è o non è perciò allora la fede va affermata la fede va proclamata la fede va annunciata è amen amen impariamo questa parola tanto difficile ma tanto semplice e breve amen è è non così sia è è affermazione forte amen e l'apocalisse chiama Gesù l'amen di Dio l'amen è Gesù è il compimento della volontà di Dio dei progetti di Dio Signore Gesù che hai autorità che non ci manifesti opinioni ma ci dai certezza edifica oggi tutta la nostra società che sta traballando non ci sono più principi nella nostra società non ci sono più valori siamo smarriti e anche tanta parte del tuo popolo si sente smarrito ma tu ci doni la tua parola tu ci doni te stesso tu sei l'amen di Dio non viene a darci opinioni ma certezza vita le mie parole tu hai detto sono spirito e vita ecco Signore Gesù donaci oggi la grazia di costruire la nostra giornata su di te ma tutta la nostra vita sia costruita su di te che sei la roccia che non crolla non sei l'opinione che muta sei la roccia eterna e tu vivi in eterno e ci conduci alla pienezza dell'eternità grazie Signore Vergine Santissima tu brilli in mezzo a noi perché la parola di Dio in te è stata accolta si faccia di me secondo la tua parola e tu hai fatto tesoro di ogni parola uscita dalla bocca di Dio di te dice il Vangelo e Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore donaci a madre di seguirti per questa via e di fare di Gesù tuo figlio il pane quotidiano per la nostra anima di fare di lui il nostro Signore Redentore a lui gloria l'onore la potenza la benedizione lui che è la roccia della nostra salvezza che vive e regna per tutti i secoli dei secoli Amen e la benedizione del Signore fratelli rischiare tutta la vostra giornata Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti